Simon, è una partita che si gioca con... tu sei uno dei leader, sei quello con più esperienza stando forse all'undici titolare di domani, se sarà poi quello confermato. Ecco, come si affronta una serata così? Come la spieghi, come carichi compagni, ragazzi, giovani che vivono per la prima volta un'atmosfera come quella di domani sera? Che queste partite qua non sai mai quando sarà un'altra, sono serate che rimani con te tutta la vita, anche per il bene e per il male, ma anche per quello giochiamo a calcio, per queste emozioni, questa adrenalina che l'altra sera siamo stati a San Siro è una delle più belle esperienze che ho avuto nella mia carriera con i nostri tifosi e domani sarà un po' differente, però ti dà un'emozione, una sensazione sul colpo che secondo me non si trova a nessun'altra parte, per questo qua giochiamo a calcio.